Adesso alzi la mano chi è rimasto sorpreso dalla vicenda del calcio scommesse. Se qualcuno lo fa, vuol dire che è un'ipocrita, oppure che è atterrato qualche giorno fa, e nemmeno tanti, da Marte e del mondo del calcio, sa poco o nulla. È facile far finta di scandalizzarsi e dire che queste cose non dovrebbero esserci o che nessuno si era accorto di nulla. Chi vive nel mondo del calcio, invece, conosce benissimo nomi, cognomi, usi e costumi di tutti coloro che agiscono alla luce del sole e nel sottobosco. Perché basta poco, anzi pochissimo, per capire come vadano le cose in questo mondo. Lo sporco che c'è nel mondo del calcio per anni è stato messo sotto il tappeto, pensando, sperando che nessuno, prima o poi, lo alzasse. Ogni tanto però qualcuno lo fa, e allora si scoprono cose che lasciano tutti come sorpresi, ma così non è, perché è giusto che in molti sappiano che poi i commenti e i sorrisini nel privato fanno intuire che tutti sapevano tutto o quasi. Ma tutto questo ce lo potevamo aspettare. Non siamo inglesi che sono pronti a scommettere su tutto, anche sul colore del primo vestitino del Royal Baby, senza che qualcuno pensasse di essere più furbo degli altri. Nella terra di Albione si scommette da una vita e questi scandali non ci sono mai stati. Noi siamo italiani, una cultura diversa e la certezza, dataci non si sa bene da chi, di essere sempre un pizzico più furbi degli altri. Introdurre le scommesse legalizzate non ha fatto altro che amplificare un malcostume, che c'è stato da sempre, di puntare sulle partite. E se prima era nelle mani della malavita, adesso c'è anche la possibilità di fare soldi facili alla luce del sole. Sempre però manovrando cose che possono essere manovrate. Per fortuna però che il mondo del calcio non è tutto così, che i personaggi di un certo tipo non sono la maggioranza di questo mondo e che c'è anche gente per bene che fa di questo sport una ragione di vita. Sono loro che dovrebbero preoccuparsi di più e fare in modo che lo sporco venga fuori alla luce del sole. E per farlo c'è un solo modo, denunciare chi fa dell'imbroglio e dell'illegalità una ragione di guadagno. E il discorso riguarda anche chi come noi fa comunicazione. Se così non fosse, allora ragione l'osservatore romano quando scrive che così non si può più andare avanti. Fermiamo tutto, ripuliamo e poi ripartiamo. Se la gente non va più allo stadio, uno dei motivi è anche questo. Andare a vedere uno spettacolo finto non piace a nessuno.